Non si ha idea di quanto tempo sia destinato a stare sventrato il tratto di strada di via Aldomoro, franato nei pressi di un cantiere della ricostruzione. La magistratura sta indagando sulla frana per individuare le responsabilità. Solo in seguito si potrà stabilire chi dovrà pagare il rifacimento di quel tratto di strada. Intanto la trafficata arteria dell'immediata periferia cittadina è bloccata da due settimane, un tempo che sembra destinato a decuplicarsi per indagini e burocrazia. Non ne fa mistero neanche l'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila, Maurizio Capri. Lì la situazione è molto delicata, si sta lavorando molto fattivamente per cercare di risolvere i problemi, tenendo conto che siamo in una fase dove c'è anche un interessamento della Procura. Quindi proprio per il fatto che c'è un interessamento della Procura non si possono fare interventi di altro tipo. Stiamo aspettando che cosa accadrà a livello di indagini. Fermo restando che noi come Comune, ma debbo riconoscere sinceramente anche la ditta che esegutisce dei lavori, insomma la proprietà, si stanno attivando proprio perché tutti vogliamo in tempi rapidi risolvere il problema. Però la cosa fondamentale, diciamo la notizia, è che purtroppo la questione, come è giusto che sia, è in mano alla magistratura. Grazie. Grazie. Grazie.